In casa aveva un vero e proprio laboratorio informatico dal quale poteva controllare il ciclo di vincite delle slot machine di tutta Italia. E' questa l'attività illecita scoperta dalla Guardia di Finanza di Pesero che ha individuato un uomo di 36 anni che in un'abitazione della provincia aveva creato una vera e propria attività di supervisione informatica attraverso password illecitamente acquisite. Password tramite le quali accedeva alle slot machine disseminate in giro per il paese accedendo alla conoscenza del fine ciclo dei vari apparecchi e in pratica capiva il momento in cui era opportuno giocarvi e rimediarvi una vincita sicura. Per apparecchiare questo reato il 36enne si avvaleva di altri soggetti alle sue dipendenze che venivano indirizzati a giocare alle slot machine nel posto giusto al momento giusto. Insomma la possibilità certa di riscuotere le vincite permetteva di recarsi alle slot come se fossero dei veri e propri bancomat. L'attività d'indagine ancora in corso di esecuzione ha consentito di individuare nella soffitta del 36enne indagato oltre 40 personal computer fra portatili e fissi tutti connessi alla rete e da ciascuno dei quali venivano controllate le slot machine collocate in diverse regioni. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro così come vari smartphone in uso all'uomo anch'essi utilizzati per le attività illecite. Giorni intensi per la guardia di finanza perché l'operazione arriva all'indomani della condanna a un anno e sei mesi di reclusione a un cinquantenne pesarese dipendente dell'Inps scoperto dalle stesse fiamme gialle ad effettuare trading di borsa durante l'orario di lavoro. Dalla stessa Inps aveva ricevuto due richiami disciplinari ma ieri è arrivata anche la condanna per esercizio finanziario abusivo in quanto svolgeva attività di trader a tutti gli effetti senza averne la qualifica o i requisiti di legge.